Una studentessa di 18 anni avrebbe subito abusi sessuali da parte di due uomini dopo essere stata invitata a trascorrere una serata in una stanza di un bed and breakfast a Milano, stanza che i presunti stupratori avevano preso in affitto per quella notte. L'episodio è avvenuto lo scorso maggio e a quanto si è saputo dopo la denuncia della ragazza nei giorni scorsi uno dei due uomini tra i 20 e i 30 anni ed entrambi di origine nordafricana è finito in carcere su ordinanza firmata dal GIP milanese Emanuela Scudieri come richiesto dal PM Pasquale Addesso nelle indagini della squadra mobile. L'altro presunto violentatore invece risulta latitante perché poco dopo i fatti è scappato all'estero. Tra l'altro nell'inchiesta si sta verificando anche la possibilità che siano stati commessi abusi su altre ragazze con lo stesso meccanismo, ossia dopo aver preso stanze in strutture ricettive della città da parte di alcuni giovani che frequentano spesso, come i due indagati, la zona della movida milanese delle colonne di San Lorenzo. La ragazza italiana ha raccontato di essere rimasta stordita dall'alcol che ha bevuto quella sera assieme ai due giovani. Tra i testimoni nell'indagine c'è un amico della vittima che l'aveva accompagnata nel bed and breakfast. Non è ancora chiaro se nell'alcol le avessero sciolto benzodiazepine, la sostanza che fa perdere i ricordi nell'immediatezza dei fatti per farli riaffiorare dopo qualche giorno come frammenti dolorosi di un puzzle. Dopo la denuncia sono scattate le indagini che hanno portato in due mesi all'arresto di uno dei due stupratori. Si tratterebbe, secondo la procura, di una banda di seriali perché non è escluso che ci siano anche altre persone collegate ai due, il ricercato e l'uomo già finito in manette. Come è quasi certo che ci siano altre vittime. Intanto la procura mette in guardia le giovani e sotto la lente torna la movida folle violenta delle colonne.